Benvenuti cari follower in questo nuovo video in cui vi informeremo sulle zone interessate da pioggia, forti temporali e maltempo domani, venerdì 21 giugno 2024. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci e incoraggiarci premendo il pulsante Mi piace per questo video per motivarci a continuare. Spero inoltre che tutti condividiate urgentemente questo avviso con quanti più italiani possibile per evitare maltempo e improvvisi grazie. Quindi, come vedete sulla mappa davanti a voi, domani, venerdì, le regioni settentrionali dell'Italia saranno esposte a temporali molto forti. Questi temporali aumenteranno di intensità nel corso della serata e saranno accompagnati da venti e grandine, con il rischio di allagamenti improvvisi e il rischio che si formino tornado, soprattutto a mezzanotte di venerdì. Per quanto riguarda il resto d'Italia, soprattutto al sud, il clima resterà molto caldo. Dunque le zone interessate da maltempo e forti temporali domani, venerdì, soprattutto nella tarda notte, sono Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, l'estremo nord dell'Emilia-Romagna. Temporali molto deboli su varie zone sud delle Marche dell'Umbria, Abruzzo. I temporali saranno più forti verso Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, con rischio di forti allagamenti, soprattutto alla mezzanotte di venerdì. Pertanto è vivamente richiesta prudenza ed eventuali altre notizie importanti cercheremo di comunicare te di dopo.